26 luglio, Viale, Amelia, al numero 23, 17 anni, tra Rita, decideva di togliersi la vita. Sì, questo giorno è un giorno indimenticabile, è inutile dirlo, si sa che per me è un giorno indimenticabile, e niente, è un giorno che ricordo con molta tristezza, che ogni volta che vengo in questa via sono molto provata, ricordi brutti perché alla morte di Rita collego la morte di Zio Paolo, il nostro stare male, la decisione amara di farla finita dopo la morte di Zio Paolo, perché secondo lei era la sua stella, la sua terza stella che si spegneva dopo il padre e il fratello, tante speranze riposte, ma svanite nel nulla, dopo tanti anni continuiamo, io penso che vita sia morta non solo perché gli è venuto a mancare Paolo Borsellino, ma perché gli è venuto a mancare un pezzo dello Stato, dopo tanti anni ancora lo Stato assente, dopo tanti anni, tanti testimoni che soffrono, tante ingiustizie, ne abbiamo parlato stamattina, nel nostro piccolo incontro privato con tantissimi testimoni, infatti non si era mai visto tanti testimoni insieme e parlare della cosa in modo civile, pacato, esprimendo le proprie opinioni, tanti testimoni con tante sofferenze, ma che alla fine confluiscono tutte su un'unica cosa, lo Stato assente. Speriamo che qualcosa cambi, io sono sempre ottimista nella vita, però oggi quando ho visto tanti testimoni, ho riascoltato tante storie drammatiche, torno e chiedo e mi dico dove è lo Stato, se questa storia finirà mai. Oggi l'associazione da te presieduta ha voluto porre una targa per ricordare appunto il gesto, se così lo possiamo definire, ma anche nell'associazione ritornano i diari di Rita, che ovviamente verranno messi a disposizione delle scuole in maniera gratuita perché la proprietaria è... Sì, la proprietaria è mia figlia perché è stata legittimata da un tribunale, sono dichiarata legittima erede di di Atria, questi diari tanto agognati dopo tanti anni sono tornati nelle nostre mani, mia figlia ha detto che mi faccio portavoce perché lei è un tipo molto schivo, non rilascia interviste, non vuole uscire fuori più di tanto. ha detto che la mette a disposizione per qualsiasi causa che non sia scopo di lucro, al momento in cui capirà che si lucreva su qualsiasi cosa, non solo sui diari, ma qualsiasi cosa che appartiene alla nostra storia, lei ha detto che così per come li sei rifatti avere, così li distrugge. è molto determinata in questa situazione, diciamo di sì.